Prima grande nevicata dell'inverno in Cina. La provincia di Liaoning, nel nord-est del paese, si è risvegliata in un paesaggio imbiancato. L'evento, il primo della stagione, ha riportato all'aria aperta residenti e turisti per immortalare il paesaggio imbiancato. A Shenyang, capitale della provincia cinese, si gioca a palle di neve immortalate nelle classiche foto ricordo. Da queste parti erano anni che non si vedeva una nevicata del genere. Per i turisti che vengono dal sud della Cina, simili scenari sono davvero sorprendenti. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole, viste anche le gelide temperature. Nel momento più caldo della giornata, la colonnina di Mercurio non ha superato i meno 5 gradi. Nonostante il freddo, in molti sono saliti sulle colline per non perdersi lo spettacolo della città ricoperta di neve e il lungo lago imbiancato.